E su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Quello che vi è appena successo, purtroppo, è soltanto l'inizio. Adesso che io sono qui, la morte terrena non interromperà la nostra vita eterna. Lazzaro! Vieni fuori! Ricordo bene che desideravi che ci fosse un altro modo. E ripensandoci l'avrei desiderato anch'io. Ancora non so perché le cose dovevano andare così. L'amaro che spesso si confonde con il dolce. Se avevi detto che sarebbe stato così, con la tua vita stessa, un uomo pieno di dolori e che conosce la sofferenza. Ma ecco la sofferenza, è un uomo pieno di dolce. Ma ecco la sofferenza. Grazie a tutti.